Questo grosso premio che era in palio, ad un certo punto per la svalutazione che seguì la prima guerra mondiale, cioè divenne un piccolo premio, quindi non c'era più l'incentivo del denaro, però rimaneva l'incentivo intellettuale, cioè riuscire a risolvere un problema che era sul campo da quasi 300 anni. Passarono ancora molti anni, verso la fine degli anni 90, nel 93, un signore di nome Andrew Wiles scoprì, dopo sette anni pensate di ricerche soltanto su queste cose, io poi l'ho conosciuto questo signore, l'abbiamo invitato al festival di matematica di Roma, è stato colui che ha aperto il primo festival di matematica, perché effettivamente era il matematico più famoso del mondo. Lui mi ha raccontato che si era sposato, quando aveva sposato questa signora, che all'epoca era signorina naturalmente, prima di sposarsi, le disse, dunque io sto lavorando a questo problema, e cerco di risolvere il teorema di Fermat, e poi per sette anni ci lavorò. E una sera scese dal suo studio, non è che è stato sette anni lì, andava avanti e indietro, però una sera di quei sette anni scese dallo studio, andò dalla moglie e gli disse, l'ho risolto. E la moglie riguardò, e gli disse, che cosa? Scusa, erano passati sette anni, naturalmente nel frattempo erano nati i figli, lui doveva portarli all'asilo, eccetera, i figli, già qualcuno andava a scuola, e così via, e lui era ancora lì. Risolse questo problema, finì sulla prima pagina del New York Times, che è il sogno di tutti, anzi, credo che sia stata la prima volta che un matematico per una questione legata ai matematici, ce ne sono stati altri che sono finiti sulle prime pagine del New York Times, per esempio Luna Bomber, però, insomma, quello è finito per motivi extra matematici, diciamo, era un matematico quello, e lui finì sulla prima pagina del New York Times, poi scrisse per bene tutta questa sua dimostrazione, e arrivato a un certo punto di questa dimostrazione, si accorse che c'era un errore. Porco cane, e allora, naturalmente, la cosa è fastidiosa, perché trova un errore, e mi raccontò lui, che c'erano dei suoi colleghi, che ogni tanto lo vedevano passeggiare dopo la scoperta di questo errore, e gli chiedevano, dice, non ti sei ancora buttata dalla finestra, perché fare matematica è una cosa, cioè i colleghi sono molto piacevoli, noi matematici, avrete capito, siamo uomini gioviali, e anche simpatetici nei confronti delle cose altre. E alla fine, dopo due anni di ulteriore lavoro, quindi nove anni, riuscì a sistemare questo buco, si accorse che la prima dimostrazione che molti anni prima aveva cercato di portare avanti era quella che l'avrebbe portata effettivamente alla soluzione giusta, e così divenne famoso. C'è un piccolo problema, voi sapete che non c'è il premio Nobel per la matematica, non so se si racconta una storia sul fatto del motivo per cui non ci sia, se volete ve la racconto brevemente, perché insomma è una storia anche un po' imbarazzante, si dice che quando Nobel alla fine della sua vita fece testamento e voleva lasciare i suoi soldi alla fondazione per istituire questo premio, sapete che i soldi se li era fatti con la dinamite, quindi materia esplosiva naturalmente, chiese a dei suoi consiglieri, disse ma scusate se faccio un premio per la matematica, non è che poi il signor Mittag Leffner che era un bravo matematico svedese, lo vince pure lui. E loro disse, certo Mittag Leffner è un bravo matematico, magari non la prima volta, ma prima o poi lo vince. E allora la cosa è strana da dire, ma si dice appunto, la leggenda è questa, che Nobel non fosse così esplosivo in camera da letto come era nelle sue ricerche sulla dinamite, e allora che la signora si consolasse con un matematico, vedo qualcuno che ride, ma comunque la questione è questa, c'è qualche svedese, è vero che questo magari in qualche modo equilibra la cosa, e che quindi lui disse, no, la moglie un conto, ma i soldi per favore, lasciamo perdere. Questa è una leggenda fasulla che però fa sempre piacere raccontare, perché ci fa piacere a noi, pensare che qualcuno della categoria potesse essere un Latin lover, o perlomeno uno Swedish lover, molto più freddo naturalmente. E allora dicevo, c'è un premio analogo al premio Nobel che viene dato ai matematici, che si chiama Medaglia Fields, che però, poiché era nato come un premio di incoraggiamento alla ricerca, significa qualcosa questo? Mi ricorda, posso fare soltanto una parentesi, mi ricorda una sinfonia di Haydn, che quando gli esterasi per cui lui lavorava, credo che fossero loro, andavano sempre in vacanza d'estate, e se ne stavano in qualche lontane dalla città ovviamente, e però un anno, poi si portavano dietro tutti, o in particolare tutta l'orchestra, i musicisti e i compositori, e un anno andarono in vacanza appunto, e questa vacanza continuava, 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 questi musicisti dicevano, ma noi dobbiamo stare qui ancora quanto, non ha capito che è finita l'estate. E lui faceva finta di niente, poi non è che uno può andare dal principe che ti paga e dirgli, ma scusi, non ce ne andiamo. E allora Haydn inventò una sinfonia, che si chiama la sinfonia degli addi, dovete immaginarvi naturalmente la scena, perché siamo nel Settecento, ovviamente, a fine del Settecento, ma comunque, quindi si suonava non con le luci elettriche, grazie alla scienza, ma con le candele, grazie comunque a tecnologia, in ogni caso. Ciascuno aveva il suo leggio con una candela, così, e lui scrisse questa sinfonia, che veniva suonata in questo modo, c'era l'orchestra, il principe sterase lì davanti, che sentiva, con tutta la famiglia, e si suonava, ad un certo punto, nell'ultimo movimento, l'ultima fila dei musicisti, suonano, tutti si alzano, soffiano sulla candela e se ne vanno, l'ultima fila. Il principe guarda la moglie e dice, non lo so, va avanti la sinfonia, la seconda fila, la terza fila, finché alla fine rimane il violino solista, soffia e se ne va. Il principe capì, si tornò indietro. Ora mi sembra questa cosa, che si cominciano a spegnere le luci dal fondo, e alla fine rimango solo io, violino solista, a fare così. Detto questo, il premio, la medaglia Filz, viene data, perché era un premio di incoraggiamento ai giovani, per statuto viene data solo fino ai 40 anni, cioè per lavori che sono fatti fino a 40 anni. Quando Wiles risolse la prima volta il teorema di Fermat, ne aveva 39. Poi trovò l'errore, quando riuscì a risistemare l'errore, erano passati due anni, anche i non matematici fanno la somma, 39 più 2 fa 41. E quindi Wiles in realtà non prese la medaglia Filz, e quando però ci fu il congresso internazionale dei matematici, gli fecero una medaglia speciale a lui, e io ricordo che una volta in un'intervista gliel'ho chiesto, gli ho detto a lei dispiace non aver preso la medaglia Filz, e lui disse, quando uno risolve il teorema di Fermat, se ne frega dalla medaglia Filz, ecco, quindi quando, come va a dire, non me l'hanno data, ma non importa. Questo è uno dei grandi problemi, che tutti i matematici sognavano di vedere risolto, e adesso da qualche anno appunto continuano a sognare, perché poi i problemi della matematica sono così. Si sa che sono stati risolti, ma le dimostrazioni sono così complicate, che in realtà non so quanti al mondo siano riusciti a studiarle e a capirle queste dimostrazioni, non io, certamente, si può intuire qualche cosa quando ogni tanto qualcuno ti fa una conferenza divulgativa, qualcuno di loro ovviamente, ma ci sono altri problemi che i matematici hanno sognato. Questo è un problema legato ai numeri. L'altra grande branca della matematica, come voi sapete, oltre all'aritmetica che si interessa dei numeri, è la geometria, che si interessa invece delle forme. Ora notate che questo problema, che è partito da osservazioni addirittura di Pitagora, su 3, 4 e 5, i legami così quadrati e così via, e che poi è stato risolto nel 1993, sono passati circa 2.500 anni, anche se poi il teorema di Fermat in particolare era solo di 350 anni. Ma dicevo, nel caso della geometria, di che cosa si tratta? Non dei numeri, bensì delle forme astratte. Ci sono forme banali che già migliaia di anni fa sono state scoperte. Per esempio, nell'antico Egitto, che è uno dei luoghi di nascita della matematica, voi sapete che la matematica probabilmente, perlomeno come la conosciamo noi, è nata in Egitto, per un motivo molto preciso, tra l'altro. Perché, anzi, la geometria è nata lì, in particolare. Per un motivo preciso, perché, come sapete, il Nilo fino a qualche anno fa ogni anno aveva delle piene che duravano dei mesi, cominciavano verso il mese di giugno, il livello del Nilo cominciava a salire, 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 si portava dietro ovviamente questo limo fertile, inondava le campagne vicine, arrivava fino al Cairo, fino verso ottobre, e saliva di 12 metri. Quindi, insomma, era una cosa veramente enorme come piena. E poi rientrava verso ottobre, fino a maggio di nuovo, e risaliva. E c'era questo ciclo continuo. Parlo al passato, perché il Nilo c'è ancora, naturalmente, l'Egitto c'è ancora, ma le piene non più uno, perché è stata fatta questa diga ad Aswan, che molti di voi avranno visto, non perché si va a visitare la diga, ma perché ci sono questi templi ad Abu Simbel, che sono stati tagliati a fette, rispostati su in alto, perché la diga, altrimenti, li avrebbe sommersi, eccetera. Comunque, il Nilo straripava. Ora, i campi che stavano vicini al Nilo, che ovviamente erano i più fertili, perché sarebbero stati inondati da questo limo, venivano sommersi. E in particolare, venivano sommersi i confini di questi campi. E quando Nilo rientrava dentro gli alvei, che cosa succedeva? Beh, bisognava ricostruire questi confini. E come si faceva a ricostruire? Beh, ci voleva qualcuno che sapesse fare quello che oggi chiameremmo il geometra, per l'appunto, che all'epoca si chiamava agrimensura, perché gli egizi non parlavano greco. e geometrein, deriva ovviamente dal greco, che significa misurare la terra, agrimensura. Però loro li chiamavano invece, i matematici, i geometri, li chiamavano tenditori di corde. Non intenditori, ma tenditori. Prendevano le corde. Perché? Perché non c'erano gli strumenti all'epoca. Però quali sono gli strumenti fondamentali della geometria? Sono la riga e il compasso. Sono quelli classici, non quelli della massoneria. Anche quelli, c'è il compasso, c'è anche l'Ino. Ma all'epoca non c'erano come strumenti e bastava una corda. Una persona o due tiravano una corda e quello faceva una retta. Tra l'altro questo è uno degli assiomi di Euclide. Per due punti passa una e una sola retta che li unisce. E se invece uno sta fermo e l'altro si mette a girargli intorno con la corda tesa, che cosa fa? Fa intorno a lui un cerchio. Questo è un altro degli assiomi di Euclide che dice per un punto dato un segmento non si può costruire un unico cerchio che ha quel segmento come raggio e quel punto come centro. Ecco che le corde tese degli egiziani sono stati i primi strumenti della matematica, quindi riga e compasso e la geometria nel senso di agrimensura è stata l'inizio della matematica come la conosciamo noi. Ma se voi andate a Ghisa per esempio o vicino al Cairo dove ci sono le tre famose grandi piramidi vi accorgete che queste piramidi sono oggetti molto regolari hanno delle facce triangolari queste facce triangolari sono quasi regolari nel senso che i tre lati sono quasi della stessa lunghezza quindi sono triangoli regolari le quattro facce sono tutte uguali fra di loro e c'è un po' però di imperfezione perché la base è quadrata invece che essere triangolare quindi quello non è come piramide un solido regolare perché quattro facce sono uguali e una no però uno può immaginarsi due cose innanzitutto uno è immaginarsi una piramide che ha una base triangolare queste non se ne vedono in Egitto benché se ne vedono di varie forme a gradoni a due inclinazioni eccetera ma non a base triangolare però si può immaginare che già gli egizi avessero immaginato che cosa voleva dire fare una piramide a facce e base triangolare ci sono quattro tre facce più una base quindi quello si chiama tetraedro quattro angoli in realtà ma anche poi facce oppure si può prendere due piramidi come quelle che si vedono uguali però e incollarle attraverso le basi e viene fuori una doppia piramide in cui questa volta tutte le facce sono triangolari ce ne sono otto però 4 più 4 e quello si chiama ottaedro allora ci sono tetraedro ottaedro due solidi regolari poi ce n'è uno che è ovvio che insomma tutti lo conosciamo i cubi cubo anche lui è un solido regolare fatto con facce quadrate questa volta e si raccontano già storie antichissime sui cubi per esempio si racconta che ci fu un giorno la peste ad Atene anche se questo è più recente verso il meno 400 di nuovo vedo qualcuno che rite non è che io non voglia dire prima di Cristo lo posso anche dire se voglio però mi dicono i preti che Cristo è nato nel 4 avanti Cristo il primo miracolo della storia uno nasce 4 anni prima della sua nascita e allora confonde questo modo di pensare alla nascita di Cristo non c'entra niente quindi meno 400 e